prosegue il corso introduttivo ad adobe after effect ben trovati questo nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it continuiamo a parlare delle maschere di livello in adobe after effect concetto fondamentale se non sapete cosa sono se non avete mai sentito parlare di maschere in fotografia o in generale anche in photoshop per esempio cliccate sul video tutorial precedente perché lì abbiamo fatto qualche esempio teorico sul concetto di maschera se siete già esperti di maschere volete semplicemente sapere come utilizzare in after effect siete nel video tutorial giusto ovviamente lo dico sempre questo è un tutorial introduttivo quindi i concetti che spiegheremo saranno molto molto semplici molto molto terra terra per permettere a chi non ha mai messo mano ad after di utilizzare questo fantastico software prima di iniziare però come sempre vi ricordo www.fabioambrosi.it sito internet dove troverete gli articoli di questi tutorial oltre anche al corso introduttivo ad adobe premiere pro se volete imparare ad utilizzare quel software troverete anche tante altre cosine quindi fateci una capatina se vi fa piacere iscrivetevi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche i prossimi video tutorial e cercatemi su facebook la pagina da cliccare è fabio ambrosi cercatevi mettete un like e teniamoci aggiornati perché le novità ovviamente continueranno su fabioambrosi.it bene torniamo ad after effect cos'è una maschera l'abbiamo visto come applicare una maschera bene quando volete aggiungere una maschera ad una immagine ad un livello in after effect la prima cosa che dovete fare ed è la cosa più importante di tutte quando volete inserire una maschera è selezionare il livello su cui volete agire se non lo selezionate lo vedremo nella lezione che seguirà non andrete ad inserire una maschera ma andrete a creare una forma geometrica ripeto ne parleremo nel prossimo tutorial per adesso ricordatevi che per inserire una maschera è importante selezionare il livello su cui noi vogliamo agire poi in alto questa barra la barra degli strumenti di adobe after effect trovate due strumenti o meglio due raccoglitori di strumenti utili per inserire maschere il primo è questo qui tenendo premuto il mouse ma cliccando su questo su questo strumento che di default è un quadrato e tenendo premuto il mouse e scorrendo questa lista avrete a disposizione come potete vedere diversi strumenti strumento rettangolo rettangolo arrotondato c'è il rettangolo lo strumento elisse lo strumento policono e lo strumento stella scegliete lo strumento che preferite a seconda della forma che volete dare alla vostra maschera e vedete che il mio puntatore del mouse cambia da un puntatore bianco diventa sostanzialmente una una croce questo ci indica ci suggerisce che siamo pronti per inserire la nostra prima maschera bene clicchiamo con il mouse in un punto qualsiasi dell'immagine qui nel monitor composizione trasciniamo e vedete che io sto inserendo una maschera sto mascherando l'immagine questa immagine di questa valle umbra chi è che non ha riconosciuto castelluccio è dicevo questa immagine di castelluccio viene mascherata dalla maschera che io sto creando quando ho terminato e ho deciso come deve essere la mia maschera rilascio il mouse e vedete qui in basso nel pannello dei livelli che viene subito aggiunto una maschera la maschera 1 la nostra prima maschera chiaramente abbiamo un colore associato alla maschera qui in questo caso è verde scuro però possiamo fare clic sul colore della maschera e scegliere tranquillamente un altro colore scegliamo un bel rosso per vederla meglio questo è solo per poterla vedere qui nel monitor chiaramente di di anteprima ecco vedete la nostra maschera rossa dicevo ci sono altri strumenti per creare la maschera c'è per esempio l'ellisse eccolo qui clicchiamo sul suo strumento ellisse disegniamo la nostra ellisse come noi come noi preferiamo lo strumento poligono chiaramente ci permette di disegnare un poligono lo strumento stella indovinate cosa fa ci permette di disegnare una stella o questi chiaramente sono degli delle forme geometriche diciamo predefinite ma ipotizziamo che sia vostra intenzione disegnare una forma customizzata completamente customizzata bene in questo caso viene il nostro aiuto lo strumento penna è lo strumento penna ci permette di per esempio vogliamo ritagliare queste colline per poter magari isolare il cielo ecco lo faccio molto rapidamente ecco stiamo finendo dicevo ho finito terminato di isolare praticamente vuole di isolare praticamente i punti di queste colline è importante per finire l'inserimento della maschera chiudere la maschera ok quindi clicchiamo sul primo punto da cui siamo partiti ecco qua vedete che io sostanzialmente tolgo lo sfondo o isolato il cielo se io vado a vedere la trasparenza di questa immagine anche della trasparenza parleremo più avanti vedete che sostanzialmente il cielo è stato rimosso e noi dietro possiamo mettere quello che vogliamo se io ho a disposizione l'immagine di un cielo posso andarla a cercare nel mio hard disk ok inserisco sotto a tutto vedete che dietro ho inserito ecco qua un'immagine particolarmente inadatta però per farvi capire ecco che dietro potete mettere quello che volete è questo lo strumento penna attenzione non l'ho detto prima parlando dello strumento ellisse ma vale anche per lo strumento quadrato prima che me lo chiediate ovviamente nei commenti è possibile inserire un cerchio preciso e perfetto basta ovviamente iniziare la nostra selezione e tenere premuto il tasto shift vedete che viene creato un cerchio perfetto aggiungendo al tasto shift il tasto control il cerchio viene creato sostanzialmente dal centro della vostra della vostra selezione questo importante non l'avevo detto può capitare che si abbia la necessità di fare un cerchio perfetto vale la stessa cosa per il quadrato è io ho un resto lo strumento quadrato che in questo caso è diventato un rettangolo ma se io anzi ho lo strumento rettangolo che in questo caso voglio di far diventare un quadrato tengo premuto shift vedete che viene creato un quadrato perfetto aggiungo anche il tasto control e mi viene creato il quadrato a partire dal centro vedete della mia della mia selezione o queste sono le maschere a cosa servono beh lo abbiamo visto per esempio con l'esempio del cielo no servono a nascondere una porzione una di immagine vedete che io qui ho nascosto rimuovo direttamente così facciamo prima ho rimosso una porzione anzi ho rimosso una bella porzione dell'immagine di castelluccio tenendo soltanto questo quadrato o dicevo attenzione perché quando crea una maschera ovviamente viene aggiunta qui sotto il pannello dei livelli vedete maschera 1 in questo caso perché la prima chiaramente le anche le maschere hanno delle proprietà se io vado ad espandere le proprietà della maschera vedo che ho dei parametri con cui posso giocare un parametro molto utile da conoscere è questo che è sostanzialmente la sfumatura è molto intuitivo capire cosa fa sostanzialmente rende la i bordi della mia maschera più morbidi sfumati questo può essere comodo se dovete fare un blending dell'immagine principale con un'immagine magari di background ma chiaramente ne parleremo più avanti potete aumentare cioè espandere potete espandere vedete la maschera o potete contrarla potete giocare un pochettino con questi parametri per vedere meglio a cosa servono importante sapere che c'è ovviamente la possibilità di invertire la maschera vedete che io adesso ho selezionato solo quello che era all'esterno della maschera nascondendo quello che era all'interno della maschera e c'è la possibilità di utilizzare dei modi della maschera di default quando create una maschera l'inserimento della maschera in modalità aggiungi cioè viene aggiunto il contenuto di livello su cui stiamo lavorando purché sia all'interno della maschera se io vado a cambiare la modalità e vado per esempio nella modalità sottrai sostanzialmente accade quello che abbiamo visto prima quando abbiamo premuto il tasto inverti vale a dire viene considerato soltanto il contenuto esterno alla maschera e viene nascosto il contenuto interno alla maschera a cosa possono servire queste queste funzioni beh vi faccio un esempio e poi così chiudiamo anche questa lezione creiamo una maschera circolare creiamo un primo cerchio ok per poter modificare una maschera non l'ho detto ma dovete entrare nella modalità selezione fare doppio clic sui bordi della maschera vedete grama il puntatore cambia colore cambia forma doppio clic vedete che vi entrate nella modalità diciamo di trasformazione quindi potete modificare le caratteristiche della vostra maschera dicevo va bene così questa è la nostra prima maschera duplico questa maschera utilizzando i tasti control d sulla nostra tastiera quindi ho due maschere identiche la seconda maschera la faccio un pochettino più piccolina ok quindi vado qui tengo premuti i tasti control shift ecco qua ho due maschere una esterna e una interna modifichiamo il colore così possiamo riconoscerle meglio o le facciamo un bel verde la maschera interna è verde la maschera esterna è rosa sono entrambe queste maschere in modalità aggiungi quindi sostanzialmente viene aggiunto il contenuto presente all'interno della delle maschere ma sia la maschera verde ok la imposto in modalità sottrai guardate cosa accade ecco qua ho sostanzialmente creato un disco vale a dire la parte dentro la seconda maschera viene sottratta mentre la parte che ricade dentro la prima maschera viene inclusa sostanzialmente ho fatto un anello un disco come preferite questo per farvi capire che il limite in questi casi è solo la vostra fantasia esistono altre modalità che adesso non andiamo ad esplorare però è una lezione introduttiva per farvi capire quanto siano fondamentali le maschere in after effect vedete come possiamo creare effetti anche simpatici e particolari dicevo per farvi capire quanto siano importanti le maschere in after effect e ricordatevi che tutto quello che state vedendo adesso è animabile quindi più avanti tra qualche tutorial vedremo come a mettere insieme un po tutto quello che stiamo imparando come animare un testo come animare una maschera e vedremo come mettendo insieme questi tasselli si va via via componendo un puzzle che vi aiuterà da qualche lezione già a creare la vostra prima animazione un pochettino più complessa che potrà esservi utile per esempio quando lavorate in premiere per creare qualche titolo qualche animazione simpatica che volete inserire nelle vostre produzioni per il momento mi fermo qui nel prossimo video tutorial vedremo come creare delle semplici forme geometriche in after effect mi rendo conto che possano sembrare concetti molto elementari forse anche noiosi ma sappiate che sono queste le basi su cui poi andrete a lavorare per creare animazioni molto complesse grafiche belle anche semplici ma belle ed efficaci quindi abbiate pazienza imparate ad utilizzare questi strumenti fate un po di pratica con con le maschere se avete domande se volete aggiungere qualcosa che magari ho dimenticato qualche imprecisione volete correggere qualche mia imprecisione commentate liberamente questi video o commentate direttamente sul sito internet www.fabbiambrosio.it iscrivetevi a questo canale youtube se vi fa piacere ovviamente c'è anche il corso dedicato ad adobe premiere se volete restare aggiornati anche sulle prossime iniziative di fabbioambrosio.it cercatemi su facebook la pagina da cliccare è fabbio ambrosi per il momento vi ringrazio al prossimo video tutorial ciao